Sfruttate, pedinate e costrette a sborsare fino all'ultimo centesimo guadagnato sulla strada. Così vivevano le ragazze costrette a prostituirsi a Novoli, nella periferia nord di Firenze. A gestirle era un'organizzazione albanese sgominata con un blitz dalla squadra mobile di Firenze. Otto gli arresti eseguiti anche in Francia e in Albania, sette in carcere e uno ai domiciliari per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Solo l'obbligo di dimora invece per altre due persone. Le indagini scattate dopo la denuncia di una delle ragazze hanno scoperchiato un sistema rigidissimo di controllo che permetteva, anche con appostamenti sugli alberi, di tenere il conto di clienti e incassi e di impedire che il territorio fosse invaso da altre prostitute concorrenti. Nessuno poteva permettersi di far concorrenza nello stesso campo a questi soggetti per minacce e ritorsioni che sono state pure registrate nel corso dei colloqui. Il sistema permetteva addirittura al capo dell'organizzazione detenuto in un carcere albanese di sapere in tempo reale quando e dove le ragazze si prostituivano. Ora al vaglio degli investigatori ci sono le loro testimonianze per capire se gli aguzzini si siano macchiati anche di altri reati.